Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno. Allora diamo un'occhiata tramite le indiscrezioni del solito carissimo Luke Mattaini che ci fa avere queste indiscrezioni tutte da prendere con la dovuta cautela perché spesso sono corrette, spesso sono corrette, ma a volte si sono rivelate anche fallaci. Non stiamo parlando di PES Master, non stiamo parlando di PES Sub, stiamo parlando di altri account che arrivano dall'estremo oriente o altre cose che a volte, ripeto, ci prendono, altre volte no. Quindi io ve lo dico, ve le faccio vedere queste cose perché ribadisco molto spesso si rivelano reali, ma prendetele sempre con una certa dose di accortezza. Allora la settimana prossima ci sarà ancora il pool leggendario, quello con Maradona, Zico ed altre leggende. Durerà fino a mercoledì, però stando a queste indiscrezioni, lunedì quando arriveranno gli agenti Roma e Lazio in vista del derby capitolino, ci sarà anche un box draw per il campionato italiano. E qui vedete più o meno quali sono i giocatori principali. Cristiano Ronaldo ormai ce n'abbiamo per tutte le stagioni. Di Bala, Koulibaly, Andanovic, Szczesny, Chiellini, Ilicic, Luis Felipe, c'è pure Icardi, vabbè ha giocato nel campionato italiano, qui vedo Skriniar, Lukaku, eccetera eccetera. Comunque dovrebbe essere un box draw dedicato sostanzialmente al campionato italiano, poi sappiamo che Konami qualche piccola imperfezione o comunque licenza poetica, diciamo così, se la prende. E questo dovrebbe arrivare lunedì. Giovedì ancora non si sanno quali sono le icone. Abbiamo avuto il Manchester United, anzi sono ancora disponibili le icone nel Manchester United, ma stando a queste indiscrezioni, giovedì prossimo arriveranno le icone della Roma. Per par condizio dovrebbero esserci anche quelle della Lazio, però ad oggi non ci sono queste indiscrezioni. Le tre icone della Roma che dovrebbero arrivare sono Battistuta che arriverebbe a 99, Francesco Totti a 98 e Aldair a 96. Quindi sarebbero tre signore icone, diciamo, con Battistuta che arriva al top a 99, quasi al top, ci sono anche quelle che arrivano a 100, Totti a 98, sul fatto è Battistuta a 99, Totti a 98, tutto da vedere onestamente se fosse davvero così nella realtà, e poi anche Aldair a 96, niente affatto male, soprattutto per i tifosi giallorossi, sarebbero delle belle pescate. Ribadisco che questi sono indiscrezioni, vedete password, questo password senza la O di mezzo, e questo invece è official pass, ma official pass col cavolo che è official, non è ufficiale, indonesia. Quindi prendete tutto con la giusta cautela, però ribadisco tante volte, e nelle ultime settimane si sono rivelate sempre più vere, quindi avranno le loro fonti, i loro leakers che riescono ad avere queste informazioni. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci aggiorniamo presto, lunedì mattina ovviamente per le novità, che probabilmente saranno questo pull, sicuramente questo è già ufficiale, gli agenti Roma e Lazio, il match dei Roma e Lazio, e poi giovedì vedremo se davvero arriveranno le icone romaniste. Buon fine settimana, se state vedendo questo video tra l'8 e il 9 maggio, altrimenti grazie per l'attenzione a tutti, o in qualsiasi momento state vedendo questo filmato, se ancora non vi siete iscritti al canale, fatelo, siamo quasi a 7500 iscritti, e come arriviamo a 7500 iscritti, io farò un video al giorno per spornare Konami ed annunciare PES 2022, perché siamo arrivati oramai a maggio inoltrato, ed info ufficiali, ancora niente, si reggono un sacco di indiscrezioni, ma tutte da prendere con, anche in questo caso, la giusta cautela. Grazie ancora per l'attenzione e al prossimo filmato, ciao!